Paolo Virciglio che è più impegnato a messaggiare per ora che a giocare? Ovviamente abbiamo tutti i 700 V, l'action latita, i piatti sono piccolini, giocano tutti abbastanza chiusini. Quindi per il momento va bene chattare un po' a Whatsapp? Un po' di Whatsapp, ho una chat con altri amici che sono al tavolo, ad altri tavoli ovviamente, allora si discute un po' di come va il torneo, di qualche spot. Anche se un po' già l'abbiamo giocato col signore, in un tribettato interessante. Signore Max Greco? Sì, io mi scuso, non lo conosco, anzi è piacere, Paolino. Parliamo di poker anche con Paolo Virciglio, reduce da ottimi risultati, gli assi di poker, Shark Bay? Eh, diciamo che vincere due tornei di seguito non capita tutti i giorni, anzi penso non capita neanche in una vita alla maggior parte dei giocatori. Come avevo già detto in altre interviste, sicuramente anche run, perché comunque bisogna avere anche un po' di fortuna e vincere i colpi. Sì, però diciamo che soprattutto qui allo Shark Bay penso di aver meritato il risultato contenuto. Senti, si dice che non c'è due senza tre, questo è il Dextre? Eh, speriamo di fare non c'è due senza tre come ha fatto Galba a Venezia, che anche lui ne ha vinti tre di seguito, praticamente tutti e tre a Venezia. Ci si prova, insomma, il field ho sentito che sarà molto grande, che ci saranno, beh, non so se mi puoi confermare più di 500 persone, mi hanno detto, e quindi ovvio arrivare in fondo sarà molto dura, però ci si prova, insomma. D'accordo, allora ora lo lasciamo invece guardare le carte anziché Whatsapp, bocca al lupo. Crepi, ciao.